L'iniziazione non è un insieme di istruzioni. In realtà, in ogni processo di iniziazione, le istruzioni sono una sorta di disturbo, una seccatura. Dico che è una seccatura perché... Diamo ancora delle istruzioni, perché la maggioranza delle persone, siccome al giorno d'oggi sono diventati tutti istruiti, tutto deve essere detto, sai? O deve essere stampato il giorno d'oggi. Anche se glielo dici non è abbastanza. Vorranno un foglio stampato, le istruzioni dell'iniziazione. Perché sono tutti istruiti. I loro cervelli sono pieni di parole, non di vita. Troppe parole. Quindi tutto deve essere verbale. Anche dirlo non è abbastanza. Devi stamparlo. O devi registrarlo e darglielo così che possano mettersi le cuffie e ascoltare le istruzioni ogni volta. L'iniziazione non è un insieme di parole. Se dobbiamo usare un'analogia, se sai qualcosa di elettricità, nelle cose elettriche, sai, i motori ed altro, c'è qualcosa che si chiama induzione. La corrente è lì, il motore è lì, tutto è lì, ma senza un interruttore di induzione non andrà. Tutti gli ingredienti sono lì, tuttavia non succederà. Perché non c'è induzione di energia. Quindi, l'iniziazione è come un'induzione. Hai tutti gli ingredienti per essere meditativo. Ma non succede. Perché non succede? Perché questo è il modo in cui la creazione stessa è successa. Se segui la spiegazione tradizionale, un modo, se segui la moderna via scientifica, è la stessa cosa detta in una lingua differente. La scienza moderna parla di come tutto fosse spazio vuoto. Adesso stanno togliendo la parola vuoto e dicono che fosse spazio. Non c'è fisicità lì, ma sembra esserci qualcosa ad altro lì. Cosa sia quel qualcos'altro non lo sappiamo, secondo la scienza. E oggi hanno fatto esperimenti in cui, in stato di vuoto, se applichi una certa energia intorno a esso, non dentro, intorno, all'improvviso dei protoni virtuali e neutroni virtuali fuoriescono. Ciò significa che la creazione inizia solo perché c'è dell'energia che vi danza intorno. C'è una bella storia nella tradizione yogica. Shiva. Devi capire la parola Shiva. Shiva significa Shiva significa ciò che non è. Una descrizione appropriata per lo spazio. Ciò che è è creazione fisica. Ciò che non è è dimensione non fisica dell'esistenza. Quindi Shiva significa ciò che non è. Shiva era disteso. Il suo corpo steso attraverso il cosmo, ma non è. Non esiste. Non ha una manifestazione fisica. Poi Shakti, una certa dimensione di energia, giunse e danzò intorno a lui. Allora lui diventò vivo. Allora iniziò a sputare galassie dalla sua bocca. Questa è la descrizione più appropriata di come la creazione sia avvenuta. Ancora sputa galassie, nuove galassie, succede continuamente. semplicemente perché una certa energia lo ha toccato. Tutto ciò che era necessario per la creazione era già lì in lui, ma aveva bisogno di induzione. Quindi l'iniziazione è una specie di processo induttivo. Ma sfortunatamente oggi, se chiedo alle persone di sedere qui e basta, faremo delle cose per te, loro... non succede niente. Perché non fai niente? Si suppone che tu dica qualcosa. Quindi che fare? Per via dei tempi moderni diciamo molte cose. Stiamo con te. Oggi se vai e ti siedi nel tempio di Analinga, senza istruzioni puoi diventare meditativo. Posso farlo per te qui, ora. Come si chiama questa ragazza? Ina? Ina, sei nel Regno Unito. Se sei disposto a sederti lì e basta, posso farlo per te ora, ovunque tu sia. Ma... in questo momento, sei una studentessa. Ti stai ancora istruendo. Forse sei una possibilità, non completamente istruita. Troppe parole nella tua testa. L'unica cosa che capisci sono le parole. Per questo motivo le istruzioni sono giunte. Altrimenti, l'iniziazione non riguarda le istruzioni. In realtà non c'è nessuna istruzione in essa. L'iniziazione è solo un processo induttivo. È un processo energetico. Ma... dobbiamo parlare di energia. Sai? Dobbiamo parlare molto di energia prima che aprano la loro bocca e... Oh, apadia! tempi duri per i guru. Troppo parlare. Se non parli, nessuno sarà qui. Pochissimi possono davvero capire se stiamo semplicemente seduti qui riverberando, anche loro sederanno qui riverberando. Quei numeri sono piccoli. Beh, inizia, quei numeri stanno aumentando. Non devo dire molto. Ma nel mondo più ampio devi... devi parlare, parlare, parlare e parlare. Stare con le persone. Stare con le persone.